Il granchio blu è davvero buono da mangiare? Oggi vi insegno un modo semplicissimo per cucinarlo e soprattutto vi spiego come trattare questo animale dal momento in cui lo comprate o lo pescate fino a quando è cotto e dobbiamo aprirlo per fare le nostre ricette e inoltre assaggeremo sia il maschio che la femmina e scopriremo quale dei due è effettivamente più buono Ma prima di cominciare, se non lo siete, iscrivetevi al canale ci date davvero una grandissima mano Il problema più grande quando comprate o pescate i granchi blu è quello di maneggiarli senza farvi pizzicare Qual è la soluzione? In maniera molto semplice li prendiamo e li mettiamo nel frigo per 3-5 ore In questo modo i granchi abbastano le loro funzioni vitali fino a morire praticamente e quindi possiamo maneggiarli con cura Possiamo fare delle bustine e congelarli oppure possiamo cucinarli direttamente senza che il granchio soffla Sono passate 4 ore e i granchi sono praticamente quasi morti Ne scegliamo due per la ricetta di oggi Come vedete sto prendendo un maschio e una femmina Prenderli con le mani è facilissimo però se vi fanno senso, paura oppure se non volete sporcarvi potete utilizzare un recipiente li mettete dentro e poi li prendete con delle pinze prendendoli sempre per la chela è la cosa più semplice Per la ricetta di oggi ci serve solamente una pentola abbastanza larga che riempiamo di acqua Il sale io di solito non ce lo metto e lasciamo bollire l'acqua Io già l'ho fatto prima ovviamente quindi l'acqua è pronta e a questo punto non ci resta che mettere i granchi dentro Ora li lasciamo bollire per circa 15 minuti Avete visto preferisco molto di più o congelarli o lasciarli comunque in frigo in modo che non soffrano con l'acqua bollente anche se una volta che li mettiamo muoiono in pochissimi secondi Riconoscere il maschio dalla femmina è semplicissimo oltre al colore delle kele che sono completamente brune al maschio e hanno le punte rosse nella femmina La differenza sta soprattutto nella parte inferiore del carapace Qui è allungato, qui invece è bombato Una piccola curiosità Ovviamente i maschi raggiungono le dimensioni maggiori Ne abbiamo pescati anche di 6-700 grammi ma mi hanno detto che possono diventare ancora più grandi Come al solito si sente un profumo omicidiale quando facciamo queste ricette E' ovvio che questa non è una ricetta da ristorante stellato ma chi se ne frega guardate che le ricette più semplici sono le migliori 15 minuti sono passati Stavolta vi servono sicuro le pinze e sicuro vi serve l'insalatiere Allora riprendiamo l'amico nostro qui che ormai è cotto Brucia tantissimo A proposito la ricetta è già finita Ora abbiamo bisogno di uno schiaccianoce uno stecchino ma soprattutto di un bavaglione di un grembiule perché ci sporcheremo tantissimo Ora se vi sembrano un po' sporchini non vi fate problemi non c'è bisogno di lavarli uno perché hanno cotto a 100 gradi e due perché vi sfido a lavare comunque il granchio che potrebbe piano piano riprendersi e andarvi a staccare un dito quindi cucinatevi così e fidatevi che tanto andremo a mangiare l'interno del carapace non quello che c'è fuori granchio mai sfidato e non me te magno Allora cominciamo dalle zampette io le tolgo tutte c'è un po' di polpa in tutte le zampe è buonissimo guardate non c'è né sale né olio questa è la ricetta più buona è come mangiare una ragosta questa è la femmina non si spreca niente buono buono queste ce le lasciamo per dopo perché è la parte migliore guardate che polpa questa è proprio una mangiata da zozzoni dovete sporcare le mani dovete fare rumore perché non c'è altro modo per gustare questi granchi a meno che non volete stare 5 ore a scavare piano piano la polpa ora però arriviamo alla fase un po' più particolare quindi siamo arrivati sostanzialmente al corpo del granchio come lo puliamo qui dentro allora in maniera semplice io uso le dita tanto si stacca vedete da qui sotto potete farlo anche con un coltello piano piano lo aprite così queste qui che vedete sono le branchie le levate ora la carne è sia qui che qui cosa faccio io? tolgo questa parte qui e poi lo taglio in due ora queste arancioni mi sa che sono le uova assaggiamole va non sanno di niente le uova ma la parte buona è questa qui buono però secondo me è più buono il maschio buono buonissimo come vedete in questa zona ci sono queste uova queste uova che poi diciamo troverete nella parte posteriore non hanno sapore quindi si possono anche scartare semplicemente è ovvio che poi tutta questa questa parte qui quando andiamo a fare un sugo una pasta è quella che gli dà sapore è ovvio che la pasta col crostaceo è buonissima ora schiaccianoci e apriamo le chele guardate quanta polpa anche se è piccolino il granchio io tiro via questo con lo stecchino ci aiutiamo e tiriamo fuori tutta sta polpa qua ecco questa mamma mia questa è la parte migliore le chele una volta cotto si rompe pure più facilmente se no fa un casino incredibile ora questo me lo mangio con calma proviamo se è migliore il granchio maschio ora è ovvio che il maschio soprattutto di queste dimensioni c'è una molta più polpa della femmina e sfido praticamente a dirlo e quindi sicuro mi sembrerà che è più buono buono è anche probabile che nel periodo della riproduzione quindi quando depongono le uova il maschio sostanzialmente la femmina sostanzialmente abbia meno polpa meno carne proprio perché sta alimentando le uova è aragosta questa è veramente aragosta che non ho mai mangiato ci assomiglia tantissimo molto più buono dei gamberoni molto più buono di altre cose cioè per 6 euro al chilo ne vale veramente la pena con lo stecchino scavate tutto ora vediamo qui la differenza come è fatto prima stacco la chela anche nel maschio in maniera molto veloce stacchiamo tutte le zampe e le chele e poi arriviamo alla parte del carapace come ho fatto l'altra volta apro la parte superiore togliamo le branchie che non si mangiano sostanzialmente e poi andiamo ad aprirlo nella parte inferiore aprendo il granchio in due il maschio ha veramente più polpa della femmina non c'è non c'è dubbio almeno in questo periodo lo puliamo per bene non fate rischiazzinosi perché tanto questa è roba da sporcaccioni proprio è goduriosa roba guardate che carne è buonissimo il sapore è identico tra maschio e femmina non c'è dubbio però dopo vi dico le mie impressioni guardate qua le zampe quanta carne è goduria allo stato puro però certo vi dovete sporcare completamente magari al ristorante non è una cosa da fare tiriamo le somme di questo granchio blu per dirla tutta è fantastico sa veramente di astice molto più buono di un gamberone se trovate esemplari grandi mangiateli così perché è il modo più semplice ma anche più buono vi godete il granchio solo acqua né sale né olio né niente proprio però con gli esemplari più piccoli potete fare tranquillamente una pasta un sugo o altre ricette ce ne sono di complicatissime magari qualcuna ve la faccio anche vedere io o vi lascio il link qui in descrizione comunque è buono e visto che ce ne sono troppi mangiamoceli che ci fa pure bene anzi no attenzione perché sono pieni di colesterolo quindi se soffrite un po' di colesterolo alto mangiateli con le dovute cautele sono alla fine sempre costace boffatevi mangiat è buono è buono